Ciao, ho visto che c'è grande interesse per il corso di edizione e questo mi fa assolutamente piacere. Volevo darvi qualche informazione. Il giorno 19 ottobre alle ore 21 faremo un evento di presentazione. È un lunedì, quindi stesso giorno e stesso orario del corso. Anche per la partecipazione all'evento di presentazione dovete comunque registrarvi. È necessario per avere poi i vostri dati dove inviare il link alla piattaforma che dovete raggiungere per assistere. Sia alla presentazione che al corso. Quindi la registrazione non è assolutamente vincolante. Vi lascio il link nei commenti alla forma da compilare. Avrete modo di conoscere quindi il docente, avrete modo di testare la piattaforma e di vedere se fa al caso vostro. Il corso partirà, ve lo ricordo, il 2 novembre alle ore 21. Saranno 10 lezioni dalle 21 alle 22.30 circa. Abbiamo stabilito un massimo di 10 partecipanti perché come nei corsi dal vivo c'è la necessità di seguirvi uno alla volta e un numero maggiore non avrebbe permesso di farlo nel modo adeguato. Vi ricordo che per qualsiasi informazione sono a disposizione. Nei miei canali social o nel mio sito trovate tutti i dati necessari per potermi contattare, quindi numero di telefono, mail o quello che preferite. Vi aspetto quindi il giorno 19 alle ore 21 per l'evento di presentazione e poi se vi fa piacere vi potete iscrivere al corso che partirà invece il 2 novembre. Ciao!